Lei è stato eletto coordinatore regionale di Abruzzo Civico, lei come espressione della lista civica arancione. Ecco, da dove nasce questa alleanza? Nasce innanzitutto da un'amicizia, un'amicizia a titolo personale che io ho da oltre 20 anni con l'onorevole Giulio Sottanelli, che è stato poi il fondatore di Abruzzo Civico. Quindi da questo rapporto di fiducia che si è instaurato nel corso degli anni, c'è da tenere presente che non gli ho fatto mancare le critiche per le sue attività in passato, lui ha compreso che oltre all'amico poteva contare su un collaboratore che era una voce indipendente, non uno CS-man. La storia con Abruzzo Civico poi nasce nel 2015, quando questa federazione ha iniziato a coinvolgere altre liste civiche sul territorio. C'è stato un allontanamento nel periodo del referendum, perché Abruzzo Civico ha sostenuto il sì al referendum, mentre noi non eravamo d'accordo ed eravamo, come lista civica teramana, sostenitori del no. Tutelavamo quindi la Costituzione così com'era, ci piaceva così com'era. Proprio questa scelta di coerenza, che però non è diventata un contrasto all'interno di Abruzzo Civico, ha portato poi il direttivo a scegliere noi come voce indipendente. Cioè hanno capito che di noi potevano fidarsi, che non avremmo fatto mancare anche critiche nel momento in cui qualcosa non andava, ma senza per questo distruggere quello che si era costruito nel corso degli anni. Ed ecco quindi che Abruzzo Civico inizia a prendere questa sfumatura arancione, mettiamola così. Quali saranno i suoi impegni per il prossimo futuro? Innanzitutto un giro di visite istituzionali, per iniziare a sensibilizzare le istituzioni sulle tematiche del civismo. Che sono per noi importantissime e che sono, a mio avviso, l'unica soluzione, a nostro avviso l'unica soluzione per uscire dalla crisi profonda di valori, dalla profonda crisi ideologica soprattutto in cui è crollata questa regione. E poi proposte concrete, quindi cercare di portare delle proposte, dei progetti, delle idee, raccolte tra i civici di tutto l'Abruzzo, per cercare di risollevare le sorti di questa regione ormai martoriata.